Bene, buonasera, eccoci qua con Igor, che è un artista a tutto campo, ma veramente nel vero senso della parola perché Igor fa di tutto, non è soltanto un geniale, straordinario disegnatore di fumetti o graphic novel, ma è di tutto, cioè poco tempo fa ha realizzato un film come regista, scrive, è autore ovviamente dei propri testi, è musicista, musicista, suona di tutto, ha fatto parte, ha costruito, ha suonato, cantato in un sacco di gruppi nella Bologna degli anni d'oro, è veramente un personaggio che si cimenta, un genio rinascimentale insomma, di quelli che si cimentavano veramente in ogni aspetto del saper fare, del saper fare arte, ma questa sera siamo qua concentrati su questo libro che è appena uscito, tra l'altro è anche editore, cioè quindi è anche imprenditore perché ha questa casa editrice, si chiama Oblomov, in omaggio a un grandissimo personaggio della letteratura russa di Goncharov, il pigro per eccellenza o perlomeno quello che non riusciva a prendere mai una decisione per eccellenza, l'oblomovismo, Oblomov. Comunque siamo qua appunto per parlare di questo bellissimo graphic novel, fumetto, chiamatelo come volete, uscito per appunto i suoi tipi che si intitola Brillo, la guerra degli ovetti. Ecco che cos'è Brillo? Brillo è un personaggio, un personaggio molto particolare ecco qua sulla copertina, poi vedo che avete dei libri, quindi insomma sapete di che cosa si tratta è un personaggio che è nato più o meno negli anni 90 per una rivista leggendaria che era Linus che tra l'altro ecco tra le tante cose lui stesso adesso ha rilevato, grazie anche al genio di un personaggio leggendario che era Oreste del Buono, ODB insomma, questo grande mago del fumetto ma non solo cioè è stato veramente l'artefice di Linus ma di tante altre cose, io poi ODB lo conoscevo personalmente perché collaborava alla stampa, insomma aveva la rubrica delle lettere sulla stampa, era leggendario perché dormiva poche ore per notte, sì, ore per notte eccetera eccetera. Comunque, Brillo che cos'è? Brillo è un omaggio ai grandi fumetti dell'epoca d'oro ma anche alla straordinaria satira tedesca della Repubblica di Weimar, quindi quella satira cattiva, corrosiva che prendeva di mira il potere in tutte le sue forme e che veniva fuori dalla tragicissima esperienza della prima guerra mondiale cioè dal primo grande massacro dell'era moderna, quindi aveva dentro di sé nel proprio DNA ecco questa satira, l'attacco al potere è anche un'anima estremamente pacifista cioè quindi l'attacco a quella grande follia che era la guerra, che era stata la guerra e Brillo riflette su tutto questo, è un personaggio che si trova coinvolto in questa delirante guerra ma come sono tutte le guerre perché a un certo punto si fabbricano degli ovetti gli ovetti con le sorprese che devono essere mandati ai vari stati di questo mondo immaginario e quello che deve coordinare la produzione degli ovetti si innamora, si innamora di una segretaria e per amore confonde, cioè perché si inciampa, perde la testa nel vero senso della parola confonde tutti i piani di produzione industriale e così questi ovetti con sorprese vanno a finire negli stati sbagliati e questo scatena una guerra, cioè appunto è una follia ma le guerre spesso partono da queste follie ed è una riflessione quindi sulla follia della guerra e anche un po' per chi non ha fatto la guerra ma ha fatto la naia, ci sono anche tante cose diciamo sulla cosa insomma comunque io non voglio andare avanti più di tanto perché insomma il protagonista è Igor e voglio che sia lui che ci racconti appunto questo fumetto ma non solo ecco anni 90, ODB, Linus, ecco come è nato Brillo e come è nata questa esperienza? ma io ero, allora Oreste Del Buono è sempre stato una specie di grande esploratore della conoscenza io per esempio leggevo le sue recensioni dei film sulle colonne dell'europeo che mio padre comprava e lui siccome era uno dei nostri nel senso che era uno che fiancheggiava il mondo del fumetto eccetera mi incuriosiva molto come intellettuale quindi anche per esempio mi ricordo che lui a proposito di Lina Verdmuller che è morta da pochissimo che lui le chiese scusa lui l'aveva sempre stroncata e a un certo punto quando venne fuori Pasqualino Sette Bellezze lui disse chiedo scusa non avevo capito niente e questa cosa oggi è impensabile che un intellettuale prenda posizione per del tempo e che poi ritorni sui suoi passi ammettendo che aveva preso un abbaglio completo questo faceva parte dello spirito di Orestino come lo chiamava Fellini poi lui mi chiamò e io debuttai con lui nel 1981 poi lui diede le dimissioni perché si vantava di avere dato 110 volte le dimissioni era un uomo si dimetteva sempre si diceva e gli dice ma scusa ma io sono venuto a lavorare a Linus perché ci sei tu e tu te ne vai adesso poi dopo quattro anni fondammo io Brolli e degli altri amici la dolce vita e gli conferimmo la direzione ad onore lui veniva ogni tanto questa sede gigantesca e da lì si è cominciato a c'erano proprio delle grandi lezioni anche di giornalismo se vuoi in diretta io gli raccontai per esempio mi ricordo che c'era un hotel che era stato occupato negli primi anni 80 e ogni stanza era diventata un praticamente il luogo di una installazione artistica e quindi fare un giro per questo hotel era una specie di viaggio nell'immaginario contemporaneo americano era un hotel americano e lui disse bellissimo allora a chi lo facciamo fare? lo scrivi tu esattamente come ve l'hai raccontato e per me era folle perché io pensavo, dovessimo chiamare un grande critico però invece lui mi insegnò anche a cogliere le cose piccole a volte proprio adesso per esempio che lo dirigo Linus a volte diciamo no, questa cosa va riscritta perché sembra un saggio noi stiamo facendo un giornale il tono colloquiale è importante perché il lettore entra poi passarono passò qualche anno e lui vide che io ero andato in Giappone sono stato il primo disegnatore a lavorare per le case editrici giapponesi il primo occidentale a lavorare direttamente allora lui mi disse vieni a Milano lui era ridiventato un'altra volta il direttore di Linus e disse fammi un fumetto in cui tu mi fai confluire tutta l'esperienza che hai imparato imparando a parlare una lingua straniera che era il manga perché ha tempi diversi regole diverse è un po' come davvero imparare una lingua straniera e metti in mezzo la tua cultura e lui le aspettava le tavole infatti poi dopo scrisse quella cosa pazzesca che era il fumetto del millennio secondo lui nel 2000 detto da uno che io adoravo quando ero un cinno come dicono a Bologna un ragazzino e sembrava un complimento pazzesco però era molto veloce molto intelligente e anche era una persona che non solo ascoltava ma rilanciava quindi per esempio fece la prima copertina fotografica c'eravamo io e Marcello Iori che era un altro che aveva lanciato lui che anche lui lavorava con la stessa casa editrice mia e fece la copertina fotografica facendo arrabbiare la redazione che non avevano mai fatto una copertina fotografica in 40 anni di Linus e mettendo le nostre facce noi avevamo in braccio questi personaggi che avevamo disegnato e c'era scritta sono tornati i ragazzi dal sol levante e anche questo era un modo per entrare in un altro pianeta narrativo era sai si dice che tu impari a giocare a scacchi meglio se giochi con persone molto più bravi di te ecco ma Oreste per me era questo era uno che mi insegnava a giocare meglio cioè scartava e andava veloce era molto veloce tanto era piccolissimo piccolissimo di statura sembra un po' brillo ecco ecco ma senti in brillo appunto che nasce nasce maieuticamente insomma c'è l'Odb maieuta eccetera eccetera però ci sono tante altre cose cioè appunto c'è il fumetto classico e secondo me c'è anche un po' di manga c'è anche un po' di giappone cioè perlomeno io te lo ce lo intravedo ecco appunto quali erano i tuoi riferimenti visivi magari anche inconsce quando hai disegnato brillo ma una figura che sicuramente mi mi affascinava allora prima parlavamo non poco prima di salire qua a me piacciono molto gli artisti meticci no non so Fellini che era un disegnatore di fumetti che poi ha fatto cinema Pasolini ma un altro che è molto vicino con cui ci sono state delle chiacchiere che duravano dei mesi tra me e Mattotti era sicuramente Dino Buzzati per esempio ecco Buzzati era un una persona che amava mettersi nei guai no perché lui era un grande cronista era un grande scrittore ma era uno scrittore che amava disegnare no e ovviamente aveva meno tecniche di quella che possedeva come scrittore e quindi tutti gli dicevano ma lascia perdere e invece secondo me lui è stato proprio un ponte con una specie di visione di immaginazione infatti lì ci sono degli ex voto lui rifaceva degli ex voto e io ho rifatto degli ex voto in omaggio a lui più che agli ex voto veri che lui in qualche modo omaggiava e reinventava e poi c'è stato c'è stato una mostra molto importante io sono un collezionista di Simplicissimus questa rivista meravigliosa di satira tedesca dei primi del novecento in cui hanno militato da Georg Grotz a Otto Dix Bruno Paolo ce ne sono tantissimi uno più bravo dell'altro e Olaf Gulbranson e anche c'era Feininger a cui abbiamo dedicato una scuola di fumetto e di arti grafiche negli anni 80 io Pazienza Carpinteri Mattotti Brolli Kramski eccetera abbiamo fondato perché lui era un fondatore un pittore fondatore della Bauhaus e contemporaneamente uno dei primissimi pionieri del fumetto pubblicava proprio nel 1906 Kinder Kids ecco allora vedi una mostra a Parigi folgorante in cui di Otto Dix in cui c'erano due quadri uno a fianco all'altro dello stesso anno in uno vedevi una tecnica impressionante e nell'altra lui aveva disimparato e questo questi due quadri che mi diedero proprio una scossa no perché quando tu disegni se non sei proprio negato voglio dire per forza acquisisci tecnica migliori però quella è la trappola diventi bravo invece bisogna sempre buttarla la competenza la butti poi torna da altre parti però comunque non ti devi compiacere e lui aveva capito questa cosa e poi con la non tecnica diciamo aveva cominciato ad affrontare tutta una serie di disegni della trincea ed erano pazzeschi erano bellissimi erano anche goffi un po' sgraziati e quindi sublini perché capivi che quella goffaggine e quella grazia veniva da una sapienza anche profonda antica no ecco questa per me è sempre stata una una spinta no il fatto prima parlavamo dei Beatles no del fatto che li vedi suonare quando stanno componendo l'ultimo loro disco e e non sono dei virtuosi no però sono i Beatles cioè sono quella cosa planetaria che oppure anche come suona la chitarra per esempio Keith Richards è uno dei miei chitarristi preferiti Keith Richards e non è difficile da fare quello che fa lui però come lo fa lui lui è Keith Richards è unico e gli Stones sono per una buona metà Keith Richards no allora imparare da questi è importante secondo me adesso viviamo in un mondo multiplo è possibile vedere non so quando io ho cominciato a disegnare i fumetti c'era Pratt che disegnava gli spazi esotici adesso tu fai Google Earth vuoi vedere com'è fatta la Malesia e vai nelle città giri per le strade con Street View è impressionante no non c'è più quell'esotismo allora è possibile raccontare l'avventura questa è la nuova sfida che sto affrontando come la racconti ora per esempio la rete ti fornisce una quantità di documentazione impressionante io mi ricordo come si faceva al tempo era difficilissimo dovevi costruire dei quadernoni in cui incollavi tagliavi incollavi tante cose per non dimenticarti adesso compri libri del 1940 giapponesi francesi cioè è tutto fattibile allora molto interessante un'epoca nuova in cui moltissime fonti sono disvelate anche quindi il romanzo storico può essere reinterpretato rivissuto può essere rilavorato però si sta perdendo secondo me la sapienza dello storytelling questo io è il rischio che vedo senti ODB ma insieme ODB Linus ma non so anche Umberto Eco insomma a partire da tutta quella generazione di intellettuali che hanno in qualche modo sdoganato il fumetto e hanno pensato sdoganato culturalmente il fumetto cioè hanno dimostrato hanno proprio sul campo che il fumetto era qualche cosa era un genere narrativo vero e proprio però anche tu insomma tu e il gruppo cioè io io sono nato negli anni 60 sono stato bambino ero bambino diciamo fine anni 60 inizio anni 70 il fumetto noi l'avevamo c'erano tanti albi c'erano a parte il classico Topolino ma poi c'era Tex c'era Zagor c'era i proibiti che erano diabolic criminal satanic che bisognerà leggere di nascosto dalle mamme eccetera eccetera comunque il fumetto era un qualche cosa che dai grandi veniva visto come il migliore dei casi come una perdita di tempo cosa stai a leggere i fumetti eccetera eccetera insomma per dire che c'era questo pregiudizio nei confronti del fumetto invece tu insieme appunto citavi Mattotti poi Pazienza insomma negli anni 80 insomma avete incominciato a fare questa operazione cioè a dimostrare primo ad allargare i confini del fumetto cioè che si poteva raccontare tante altre storie rispetto a quelle della serialità dei ragazzini eccetera eccetera e poi che il fumetto poteva essere il veicolo di un il veicolo proprio di un nuovo modo di raccontare cioè una nuova categoria della letterarietà ecco racconta un po' questa vostra esperienza questa rivoluzione culturale che voi avete effettuato negli anni 80 e tra l'altro con uno degli epicentri fondamentali era Bologna di questa rivoluzione dove tu ti sei trasferito insomma che hai vissuto ecco allora questa è un po' è una conversazione ricorrente tra me e Spiegelman ecco perché mio padre era un compositore era una persona colta molto severo e lui guardava quando avevo sei anni mi regalò una scatola di colori a olio per distogliermi dal fumetto e poi quando vide che io facevo i fumetti con i colori a olio si arrese e dice basta non ce la posso fare però lui mi ha sempre detto ed è questa la frase che io ripeto sempre a Spiegelman lui mi ha sempre detto non ce la farai non basta una vita per fare riconoscere lui capiva che per me il fumetto è un linguaggio quindi mi dà fastidio che si consideri come lui diceva fumettistico se lui vedeva un film o leggeva un romanzo e diceva fumettistico voleva dire che era caricaturale che non era nobile ecco e questa cosa è stata sempre la battaglia nostra quella di dire no è una stronzata il fumetto è un linguaggio come la letteratura come l'arte come il cinema e dipende da chi lo usa e come lo usa il risultato che ottiene se o non è colto se o non è interessante o stratificato o complesso io questo l'ho sempre pensato e continuo a pensarlo Spiegelman ritiene che noi ce l'abbiamo fatta ce l'avrai fatta tu che hai preso il Pulitzer e poi che vivendo in America viene incaricato dai grandi musei di fare delle mostre sulla storia del fumetto americano per esempio eccetera però siamo ancora qui e sembra che è la cosa che ti ho anche detto l'altro giorno che ti ho scritto l'altro giorno sembra che Eco Vitorini Calvino Buzzati del Buono abbiano lavorato in vano cioè una frase di un giornalista il Corriere della Sera l'altro giorno ha detto che praticamente che il fumetto è un linguaggio che lui leggeva quando era ragazzino poi ha preferito la letteratura facendo dei nomi Leopardi Manzoni e altre cose minori quindi usando anche il sarcasmo nei confronti di un linguaggio come dire che il fumetto è un linguaggio per Minus Abens eccetera ecco io l'ho trovato preistorico come modo di pensare per me non è non riflette una complessità cioè sarebbe come dire che io penso che la letteratura sia nobilissima e il fumetto invece sia un altro livello io conosco moltissimi letterati che sono dei cretini patentati quanto lo sono moltissimi autori di fumetti e quanto lo sono moltissimi registi che conosco dei cretini professionisti così come conosco dei geni sublimi che fanno fumetti oppure che fanno cinema o che fanno letteratura non insomma bisogna vedere come le fai le cose ecco lì per esempio c'è Pollock c'era l'idea divertente di usare il dripping cioè la tecnica selvaggia di Pollock per farla diventare parte di una forma che era poi The Shadow che era un disegnatore un personaggio degli anni 30 e 40 dei pulp che io amo molto il disegno o il racconto sono il pretesto per un viaggio per fare un viaggio per perderti nelle cose che sono poi nella memoria collettiva cioè a me interessano i riti e io penso che il narratore sia un ufficiante che utilizza uno strumento magico che è il libro che contiene racconto disegno ma anche memoria collettiva no? mito comune quella è la reinvenzione di Batman un Batman sovietico quello è divertente perché gli americani mi denunciarono dissero ma tu non ti puoi appropriare di un personaggio io lì facevo un esproprio perché Arachi Arachi sì ma quello è poi tutto il Sibari è tutta una tradizione giapponese sì c'è quello è Arachi Arachi le donne e ragazze ma l'idea di prendere un personaggio e di reinventarlo Batman è un miliardario americano e a me divertiva l'idea che lui avesse un allievo sovietico e che era un ebreo povero che lavorava come operaio quindi era esattamente lo simolo ed è l'idea del c'era Robert Altman che faceva i funerali dei generi era un regista che io ho amato moltissimo e l'idea di inficiare l'eroe l'eroe è unico se tu lo sdoppi stai praticamente disarcionando l'idea dell'unicità dell'eroe quindi Batman che ha un altro uguale sovietico che è il suo allievo è proprio l'idea di negare l'unicità dell'eroe gli americani chiamarono il mio editore francese che era l'esimano di Zassou si è quelli di Mbus eccetera gli dissero se ne fa un altro vi facciamo causa vi distruggiamo e poi rubarono l'idea loro perché come io avevo espropriato Batman loro mi rubarono l'idea dell'allievo sovietico ma va bene queste cose mi divertono mi piaccio ecco ma senti questo appunto questa allegra rivoluzione partita dal basso avevate dei ragazzi eccetera qual era il vostro mondo i vostri i vostri obiettivi per allargare appunto i confini del fumetto perché non era neanche facile trovare perché ecco un'altra cosa importante è che c'era il mito anche dell'autoproduzione delle fanzine delle cose anche lì se noi pensiamo ad oggi oggi chiunque può produrre di tutto con la tecnologia allora invece non avevi l'accesso ai mezzi di produzione di riproduzione non era facile no eravamo dei morti di fame e allora facciamo una società e compramo una macchina offset il povero baldazzini poverino lui dovete imparare a usarla perché noi dovevamo stampare avevamo la macchina poi cos'è la guardavamo quindi lui fece un corso da un tipografo per imparare a usarla e noi avevamo già c'era una progettualità no io mi ricordo che appunto facevo lo schiavo lavavo i camion in quel periodo e tutti i soldi che avevo li misi per comprare una quota di questa macchina da stampa e poi facemmo il pinguino Guadalupa che era un un albo cioè erano quattro albi di quattro autori racchiusi dentro una busta che veniva stampata e veniva venduto come una busta proprio formato sacchetto così si apriva e dentro c'erano questi albi era già un'idea in cui si cominciava a lavorare sul concetto di che cos'era l'oggetto la rivista era una rivista che si poteva comporre questa cosa questa curiosità poi ha attraversato tutta la mia vita perché quando io ho fatto la Coconino per esempio una delle prime riflessioni erano cos'è un libro un libro è un oggetto d'affezione quindi non deve avere queste carte scintillanti che hanno non so i libri francesi che sono delle carte patinate lucide non deve essere cartonato rinunciamo tutto questo vedi che a me piacciono le bicromie questi colori anche un po' polverosi no allora rinunciavamo al colore che era la tradizione colta ricca dell'Europa per prendere le bicromie cioè bianco nero e un colore no e questo bianco nero un colore era un concetto delle avanguardie no delle avanguardie innamorate della tipografia quindi i dada i surrealisti i futuristi i costruttivisti l'idea di prendere e quindi poi le carte le carte opache ecco io sono rompipalle in editoria perché faccio i libri come secondo me devono essere fatti i libri io vado in tipografia per me così come quando ero piccolo il mio tempio era l'edicola no la tipografia è casa mia io vado lì quando vado in Giappone e prendo delle carte che sono non so possono essere le carte dei dolci io compro delle cose perché sento il tatto e poi le porto il mio tipografo scappa quando mi vede arrivare con queste cose perché capisce che poi mi deve trovare quelle carte lì lui lo sa già quando mi vede arrivare con scatole strane lui proprio si dilegua per la tipografia lo devo inseguire perché gli devo dire mi devi trovare Claudio mi devi trovare questa carta e lui per esempio la copertina dei quaderni giapponesi dell'edizione deluxe è una carta giapponese è lo stesso quelle carte lì avoriate adesso ho fatto un libro con quel disegnatore lì che si chiama Andrea Serio che è un talento meraviglioso e stiamo parlando del colore della carta di come perché poi il colore della carta ha già un senso specifico trasmette già un'idea anche in maniera subliminale se tu lavori con la nostalgia con l'idea per me il libro deve essere un oggetto caldo non un oggetto che se ti cade su un piede ti fa un buco come i cartonati francesi che devo dire sto rivalutando ultimamente ma sono passati 30 anni 40 anni è da 43 anni che io faccio editoria però questo era per dire sono saltato da subito nel 1980 fu un periodo in cui Mattotti non pubblicava ancora facilmente mi ricordo che a Linus dove non c'era più del buono c'era Fulvia Serra dicevano Mattotti con l'ascia non passa deve imparare a usare il fioretto lui era un espressionista e questa cosa veniva letta come una brutalità una cosa a me sembrava folle Mattotti si capiva che aveva già talento era già pronto un grande talento e poi adesso è diventato uno degli illustratori più famosi del mondo è indiscutibile il talento di Lorenzo però appunto all'epoca io lui i carpinteri che poi fu mio compagno di classe quando avevamo 10 anni noi abbiamo cominciato a disegnare insieme proprio e da allora io continuo a frequentarlo sono 53 anni che lo frequento e parlavamo sino alle 4 del mattino su cosa fare dove andare era poi eravamo avevamo 20 anni e quindi eravamo anche degli stronzetti cioè noi pensavamo di aver inventato noi più o meno il fumetto cioè nel senso il dialogo era ce n'è un altro bravo perché eravamo soltanto io io e i carpinteri secondo noi quelli bravi no c'era pazienza e poi a un certo punto lui mi disse nel 78 ne ho trovato un altro era Mattotti io andai eravamo a Lucca prese un manifesto suo grande che c'era lo girai e gli dissi fammi un disegno volevo vedere se c'era c'era gente che apriva i mondi e quindi c'era la musica concreta nella musica colta voglio dire dodecafonia Schemberg tutti quanti noi ascoltavamo anche quella roba lì e poi c'era Ino Ino stava prendeva teorie di Eric Satie le applicava la musica come tapezzeria abbassare il volume l'impercettibilità music for ambience poi c'è John Hustle il fourth world la musica del quarto mondo musica possibile ipotesi di sviluppo allora questa roba qua ti apre la testa senza contare poi quello che arrivò il punk post punk new wave eccetera e lì facemmo subito a 1980 un numero io Carpentieri Mattotti che aveva proprio nell'editoriale il manifesto di aprire le finestre agli spifferi alle correnti altre e quindi per noi qualunque cosa io compravo libri di fotografia libri di letteratura ovviamente era Pop americani Faun e Gottbart o appunto Floating Opera John Barth queste cose astratte completamente narrazioni astratte poi ovviamente il grande mito americano Norman Mailer eccetera però quella roba lì doveva entrare la nouvelle vague per noi doveva entrare il Dada poi voglio dire tutte le avanguardie noi facciamo nell'82 facciamo le riunioni per il gruppo Valvolina diciamo che un comitato perché dobbiamo andare a costituire un gruppo di azione artistica come erano i Dada come erano i surrealisti ma ecco senti tu hai girato tanto il mondo però ecco Bologna secondo me era importante era importante per tutta questa per questa creazione di nuovi linguaggi perché a Bologna negli anni settanta succedevano tante cose insomma io me lo ricordo quando ragazzino ecco Bologna era un po' il nostro faro ecco quanto è contato aver vissuto a Bologna per fare per esplorare questi nuovi confini diciamo dell'espressività Bologna era noi eravamo la cosiddetta nuova scuola bolognese e c'erano case editrici che nascevano Bologna era lontana da Milano lontana fa ridere adesso però voglio dire sembravano due pianeti diversi Milano era una città industriale Bologna era una città sembra un paesone proprio però c'erano gli studenti gli studi elinquenti come li chiamava tamburini no c'era il Dams io mi ricordo che c'era l'equivoco che tu andavi al Dams per imparare a suonare imparare a fare film imparare a fare fumetti invece lì li studiavano non imparavi quelle cose però conoscevi altre persone che come te volevano fare quelle cose quindi poi c'era un frequentarsi un chiacchierare e Bologna è stata importantissima era una città è sempre stata insomma primi anni 80 fine 70 primi 80 c'erano le case discografiche c'era una persona pazzesca Odesso Rubini che era braianino italiano lui produceva tutti i gruppi musicali questo prodotto anche John Cage mica delle cose così e incoraggiava e poi c'era un pubblico fertile interessato curioso cioè nel 1980 suonarono i clash gratis in piazza maggiore i clash erano del 77 loro scoppiarono nel 77 con i punk e dopo tre anni erano a Bologna a suonare gratis in piazza era una città in cui le cose avvenivano in tempo reale e questa cosa era pazzesca poi appunto Brian Nino produsse No New York la No Wave i nichilisti americani il rock and roll questi arrivarono a Bologna Arthur Lindsay produsse uno di questi produsse gli F.I. Bros che erano un gruppo di Bologna che facevano delle canzoni isteriche di Sinatra versione isterica tutti in smoking bellissimi molto questa roba ti fulminava no? tu dicevi di più ok e noi eravamo la parte visiva di questo movimento diffuso aperto era molto molto bello perché era tutto possibile e devi pensare che pubblicavamo per una rivista che era Alter Alter o Frigidaire negli stessi anni che avevamo vent'anni praticamente e queste riviste vendevano da 20 a 40 mila copie ogni mese e quindi queste visioni fuori di testa che ti venivano poi venivano diffuse c'erano le copertine e tappezzavi le città insomma era una roba molto impressionante all'epoca i libri li facevano soltanto pochissimi li faceva Crepax Pratt era fare il libro io ho fatto il primo libro dopo 5 anni che pubblicavo ed ero anche conosciuto era adesso se io penso che ora puoi fare i libri è una specie di sogno una roba strana sto facendo un libro lì all'epoca tu pubblicavi su rivista facevi delle storie sulla rivista molte anche ciclostilate o cose sì c'era tutto poi il punk punk portò questa facilità di produrre cose per cui era importante che le cose esistessero questo è il principio base per fare le rivoluzioni farle esistere cioè non è un'idea che non diventa un oggetto non è niente evapora un'idea che diventa un libro che diventa una storia che diventa una cosa che può essere letta consultata diventa una cosa che ti entra nella testa io mi ricordo Munoz e Sampaio loro fecero una storia che si chiamava storie arrugginite la storia di Moses Man un pugile che decade storie arrugginite perché loro dicevano questa è sempre la stessa storia del pugile che decade eccetera però te la raccontavano come non l'avevi mai letta prima io la lessi ero in classe al Dams a una lezione la lessi mentre assistevo a questa lezione e dissi che cosa ci fai qua ma perché queste cose ti cambiano la vita no cioè i libri Vonnegut è uno di quelli che mi ha cambiato la vita io non potrei concepire la mia esistenza sotto i libri di Kurt Vonnegut ma ecco senti questa qui era la libertà la libertà che era attrice appunto la Bologna negli anni settanta quella della fantasia al potere eccetera eccetera dall'altra parte e tu ne parli anche in quaderni giapponesi ecco l'esperienza del Giappone che invece lì era la disciplina tayloristica dove dovevi produrre un tanto di tavole al giorno cioè un'ossessione ecco che cos'è ti ha insegnato invece il Giappone la disciplina no la disciplina è importante perché se non hai la disciplina non riesci a impararle queste cose come dicono gli Sparks in una canzone Pratix vuoi suonare la Carnegie Hall Pratix ogni giorno devi praticare no devi loro sono degli isolani no e io sono un isolano io lo so cosa vuol dire avere il mare intorno sentirlo questo mare e volerlo superare perché se no ti inghiotte no quindi io lì ho scoperto quando sono andato lì la mia fidanzata era di Bologna lei non le capiva queste cose io ho detto ho capito casa sono piccoletti molto cazzuti aggressivi d'altronde tu pensi guardi il Giappone è un arcipelago una caccatina di mosca rispetto alla Cina questi hanno invaso la Cina invaso la Russia sono dei guerra fondai pazzeschi loro credono di essere i tigri dell'Asia però hanno un senso della bellezza che che a me mi butta per terra quando io vedo quelle cose sono degli scorci che ti feriscono proprio mentre stai camminando per Tokyo improvvisamente sono delle cose che ti colpiscono che loro hanno un culto della bellezza e anche del sacrificio mostruoso molto molto elevato e molto che insegna molto tuttora lavorare con loro è stato il supplizio più 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 bello che mi potesse capitare nel senso che è stato molto faticoso e io ho capito delle cose di me grazie a loro è stato un grandissimo regalo che il mio editor mi ha fatto perché quando mi ha chiuso nella stanza mi diceva domani un'altra domani un'altra una storia ogni giorno dovevo scrivere disegnare fare tutti cioè scrivere la storia disegnare scrivere tutti i dialoghi cioè inventare la storia scrivere tutti i dialoghi e disegnare 16 pagine ogni giorno pensavo non fosse possibile ho scoperto di essere capace questo mi guardavo le mani non ci potevo credere ecco questo è chiaro lì per lì l'avrei ucciso però poi dopo lui mi ha fatto questo regalo poi abbiamo buttato 160 pagine proprio buttate mai pubblicate però io dopo sapevo che potevo disegnare 16 pagine in un giorno e anche mi ha insegnato che una storia la puoi guardare da diversi punti di vista e devi capire se sei un bravo storyteller qual è il miglior punto di vista per raccontare quella storia e questo questo qua non si trova nell'uovo di Pasqua e quindi la disciplina va bene cioè figurati non è non è questo è proprio è stato un grandissimo dono e arrivare dopo che io pubblicavo già da 18 anni credo e sono arrivato lì e sono io per me quello è stato l'inizio di una nuova nascita perché impari tutto improvvisamente e infatti lui dice c'erano dei miei amici fighetti francesi di grandissimi autori che loro dicevano ah no tipo l'esa maestà non puoi mettere in discussione l'autoritas invece io ci ho lavorato 17 anni con questo perché questo era uno che mi scriveva lei ha capito tutto di che cos'è il manga dopo una settimana non ha capito un accidente di che cos'è il manga poi gli dicevo senta Tsutsumi allora ho capito o non ho capito si mette d'accordo però è molto molto interessante molto affascinante il fatto di imparare delle regole che non sono facilmente riassumibili perché il manga è una lingua molto complessa è una lingua molto complessa che tra l'altro adesso sta avendo molto successo perché addirittura nei classifichi dei libri io insomma professionalmente seguo anche le classifiche dei libri ormai i manga sono cioè sono quelli che tirano il mercato che portano i ragazzi anche le librerie cioè ormai nei top ten vedi nei top ten ma è giusto guarda hanno calcolato sono nove milioni in Italia i lettori di fumetti nove milioni abbiamo il quarto mercato per ordine di importanza del mondo dopo Stati Uniti Giappone Francia c'è l'Italia non è mai successo infatti io sono entusiasta e tra l'altro Stati Uniti Giappone con popolazione non esattamente la nostra siamo parlati cinque volte la nostra ma cioè lì hai una dimensione anche molto interessante per esempio il fumetto la tradizione francese è una tradizione colta da libreria no? la nostra è una tradizione da edicola storicamente come in America adesso la rivoluzione è che noi siamo il quarto mercato del mondo in libreria quindi è un miracolo quando ho fatto la Cocconino questo se tu mi avessi detto tra vent'anni tu vedrai che ci saranno nove milioni di acquirenti eccetera io non ci avrei creduto era il sogno di qualunque editore o di qualunque autore ecco tra le tue tante vite hai deciso anche di diventare editore perché? perché fare editore è un mestiere difficile cioè che è quasi non è carino quello che dirò perché è contraddittore rispetto a la perché l'artista è quello che ha diciamo nell'editore il suo nemico perlomeno quello che deve contenere quindi tu devi fare la nemesi esatto no io ho deciso di fare l'editore perché in quel momento ne ho fondato sei di case editrici però diciamo che la Cocconino nel 2000 io ho fatto l'editore perché gli editori non facevano bene il loro lavoro allora a me piace cioè anche io ho cercato di restituire quello che avevo imparato in Giappone e io quando parlo con gli autori con Andrea in questo caso l'abbiamo fatto insieme il libro però voglio dire nel senso che io ho scritto il testo e lui l'ha disegnato però se Andrea mi avesse portato un suo libro io voglio parlare con lui per dirgli secondo te la carta sulla cui la pubblichiamo la migliore qual è? lui le farà le tavole su una carta allora il libro deve somigliare a quelle carte perché se lui fa degli acquerelli su una carta ruvida e poi le riproduco su una carta che sembra il menù di un ristorante io sto tradendo il suo lavoro gli sto dando un effetto che non è magari quello che lui cercava allora questo lavoro qua siccome gli editori tendono a risparmiare e a standardizzare e questo non è quello che vogliono i lettori perché i lettori vogliono le cose di qualità ci sono dei lettori molto esigenti allora il mio grande scorno io a un certo punto avevo detto bene facciamo le edizioni digitali dei libri perché tu metti a 3,90 euro un libro che costa 20 euro e fai come i pocket no? ho fatto un'indagine che ha condiviso con me Loredana li perini praticamente sono state 650 risposte 95% 92% delle risposte diceva non vogliamo gli ebook siamo disposti a spendere di più se ci fai un'edizione anche più bella ma non vogliamo gli ebook io non ho niente contro i monitor io a volte dei disegni me li mando o li pubblico su facebook o me li mando via whatsapp per vederli con la fonte luminosa sotto perché mi piacciono le trasparenze che si vedono e che sulla carta sono difficilissimi da riprodurre però appunto esistono dei lettori consapevoli dei lettori che non vogliono i libri così usa e getta e allora questa cosa sta portando anche a una cosa che prima non avremmo mai potuto fare stiamo facendo l'equivalente delle play ad o dei dei meridiani cioè le opere omnie con anche tutta una parte redazionale ragionata gli inediti sommersi i diari di lavorazione che sono poi delle cose che permettono di fare il punto ecco questa è un'opera importante per esempio Mugno Sampaio Tardì adesso faremo L'Ustel Parangò eccetera sono dei libri secondo me importantissimi per la storia di questo linguaggio sono la contraddizione rispetto al fatto che è un linguaggio per Minus Abens o per bambini ecco tu ora che hai preso hai preso in carico anche Linus che insomma questa storica testata ecco una rivista come Linus che è stata battistrada ecco nel successo che stanno vivendo i fumetti in generale ecco come si colloca cioè una rivista come Linus riesce ancora a dire la sua nel mondo dei fumetti di oggi guarda questa è la sfida sta in piedi funziona cioè la mia missione è quella è la missione folle di rinnovarne il pubblico no perché per età voglio dire anagrafica molti lettori sono dai 60 in su e magari a 70 anni o a 80 anni non ti metti a comprare le riviste di fumetti o non ha più voglia di leggere non lo so a me importa comunicare anche con un audience giovane una buona parte dei lettori hanno sui 30 anni sono studenti universitari o studenti universitari diciamo un po' attardati e questa cosa poi mi consente anche di sperimentare cioè di parlare pubblicare con segni nuovi segni diversi adesso abbiamo capito che rispetto per esempio a certi concetti se tu vuoi parlare non so della fluidità sessuale no gender fluid è più facile che metta non so Lou Reed o David Bowie cioè un'icona che rappresenti anche quel tipo di provocazioni che per esempio a me i maneskin sono simpatici no e quando io li ho visti vestiti come si vestiva Bowie ho detto ma è una cosa ironica o di richiamo nostalgico perché adesso non ce n'è più bisogno errore ce n'è bisogno nuovamente cioè stiamo ritornando al io quando avevo 16 anni 17 anni mi truccavo e tutto ma pensavo che fosse una cosa di quell'epoca non che adesso ce ne fosse invece no ce n'è bisogno perché non sono passati quei concetti cioè come diceva Sant'Agostino la conoscenza è un piano obliquo se ti fermi torni indietro e siamo tornati indietro adesso appunto è possibile che uno dica che il fumetto è un linguaggio per imbecilli oppure che e quindi eco buzzati tutti questi qua hanno lavorato per così sono diventati così come c'è gente io sento non so voglio dire ho fatto un lavoro su Annapolit Koskaya ho fatto un lavoro su e c'è gente che pensa che so che quello che sta succedendo che aggredire un paese che prendersi la Crimea sia possibile cioè a me sembra incredibile adesso ci sono 200.000 militari ai confini dell'Ucraina e sembra che non che la cosa è così sì è una cosa da vedere con la diplomazia ma questo si prende un pezzo dell'Ucraina perché non vuole la Nato alle porte di casa cioè voglio dire sembra che la memoria ecco una cosa che sta che sta evaporando è la memoria la memoria storica per questo secondo me c'è bisogno di fare un lavoro di fondo per riportare appunto il canone lavorare su su nuovi segni sperimentare aprire non avere dei canoni no? non possono dirmi che fumetti brutti non sa disegnare cioè un'autrice che si chiama fumetti brutti scusa lo fa apposta no? mi sembra che non o che zero calcare non è Andrea Pazienza ma cosa vuol dire? cioè zero calcare mi pare che parli benissimo senza bisogno di avvocati difensori ma voglio dire mi sembra che ci siano degli abbagli nella lettura delle cose e che sia necessario far sedimentare un po' di sabbia sul fondo e vedere esattamente che cosa che cosa ti fa vedere l'acqua un po' più pulita ecco senti tu hai fatto appunto hai fatto e fai tante cose no? musicista regista cinematografico sei scrittore perché tra l'altro i testi hanno un'importanza notevole nei tuoi nei tuoi fumetti per esempio in questo in Brillo adesso la domanda è diversa ma mi viene in mente questo in Brillo probabilmente c'è proprio un lavoro molto forte sulla lingua perché tu inventi una lingua volutamente sgrammaticata volutamente inesistente forse veramente da camerata delle caserme ma chi ha fatto ma lì c'è anche la tradizione del fumetto e poi ci sono anche delle cose io Gadda l'ho letto a me piace Gadda mi interessa mi interessa il lavoro che ha fatto Pasolini sul romanesco lui non era romano ma poi c'è Crazy Cat che è una lingua tutta sgrammaticata e reinventata c'è c'è Lila Abner c'è Braccio di Ferro Popeye Popeye era è tutto storto è scritto in una maniera completamente deformata a me interessava quello il fumetto ha delle possibilità la lingua ha una possibilità e poi certo a me interessa molto scrivere infatti prima di fare il regista la clausola che io mettevo per contratto come condizio sine qua non è che io scrivessi la sceneggiatura perché a me interessa moltissimo scrivere ma poi tu lo sai perché abbiamo presentato alla stampa My Generation quello è un romanzo e a me interessa la scrittura mi interessa perché è un'altra porta di evocazione altra e poi perché i miei amici scrittori anche celati mi ricordo che parlava mentre mangiavamo fave l'esse a Parigi parlavamo appunto di Calvino loro stavano facendo Alibaba era una rivista come Linus che non è mai uscita ma hanno dei numeri montati loro e lui era molto interessato allo sguardo a come a come uno guarda quando quando scrive o quando disegna infatti lui era amico anche di Ghirri gli interessava molto Ghirri il fotografo perché lui voleva capire la percezione perché lui viene dalla parola e molti scrittori vengono dalla parola e sono non vedenti diciamo se mi passate la metafora rozza però io quando scrivo vedo quello che scrivo e sono convinto che Celati non vede quello che scrive nello stesso modo in cui lo vedo io è una forma mentis e forse il Giappone è anche questo perché il Giappone è un paese in cui gli ideogrammi sono una scrittura che è anche disegno Hito la Y rovesciata sono le gambe dell'uomo Hito vuol dire uomo Hara è un quadrato con una croce dentro Hara è un campo è un campo allora questa cosa lì coincidono infatti Kakemasu disegnare e scrivere sono lo stesso verbo mentre da noi disegnare e disegnare e scrivere e scrivere perché casa è una convenzione che la scrittura casa sia quella cosa lì col tetto loro disegnano il tetto è la casa e quindi forse anche il Giappone mi è familiare anche per questo è una cultura in cui convivono degli aspetti che per me sono la stessa cosa poi tu dici io suono disegno scrivo ma sono la stessa cosa cioè dopo che è entrata la specializzazione quello che serve nella scrittura nel disegno e nella musica è il ritmo e la profondità è quello che cercano tutti il ritmo e la profondità una sinfonia è ritmo e poi profondità sono suoni gravi suoni suoni più più acuti quando tu fai un disco impari che esiste uno spettro sonore devi occupare il range diciamo più ampio possibile è la stessa cosa che io insegnavo quando si faceva un disegno cioè devi mettere a fuoco capire qual è la parte che vuoi che si veda prima in un disegno e poi un'altra dietro che non devi dettagliare troppo se no si mangia l'attenzione del primo piano e non vedi più il primo piano e poi il ritmo visivo zang tum tum ecco senti un'altra cosa un'altra tua caratteristica tu sei un grande viaggiatore perché alla fine hai girato tanto il mondo e questi tuoi viaggi poi si sono depositati spesso in quaderni bellissimi dal punto di vista proprio dell'immagine ecco qui c'è secondo me l'antica tradizione anche dei grandi viaggiatori perché i grandi viaggiatori una volta che volevano raccontare poi il mondo cioè che viaggiavano come esperienza di vita erano anche poi dei pittori perché giravano il mondo e poi si mettevano lì con gli acquarelli cioè il grand tour nell'Italia quando uno partiva o loro loro stessi sapevano disegnare o si portavano il pittore accanto cioè questo era anche una caratteristica ecco lì c'è in questo tuo girare il mondo e depositare poi sulla sulla carta dei disegni degli appunti visivi delle cose c'è una lunga tradizione mi pare è bello perché io e lui ci scriviamo ogni tanto e ci si capisce al volo adesso lui non sa che mi sta chiedendo di un libro che sto per scrivere è in diretta questa cosa a cavallo con i poeti si chiama ed è proprio l'idea che del nomadismo legato alla scoperta dei luoghi che però è anche una scoperta metafisica una scoperta interiore perché i luoghi ci parlano ecco Battiato mi diceva quando un film ti piace o un libro ti piace o un dipinto ti piace vuol dire che si sta svelando una cosa di te non sei tu che sei influenzato è lui che si sta parlando di te e quindi ti colpisce per questo motivo che è una cosa che mi aveva fatto molto riflettere quando lui mi disse che gli piaceva Herzog che sembrava distante però era vicino perché lui diceva non sopporto i cuori russi era quel periodo in cui mi disse questa cosa di Herzog e questa frase però appunto è l'idea che tu viaggi per esempio ci sono dei viaggi che io rifiuto mi invitano da molte parti ci sono dei viaggi che io dico no grazie non ho tempo in realtà magari è vero che non ho tempo però è che quei luoghi non mi parlano e penso che non sia il momento di andarci devo trovare un suono che risuona dentro di me e che so che prima o poi mi parlerà ecco questo accade è proprio questi per esempio Basho o Issa Buson i più grandi poeti giapponesi di haiku questi qua erano dei nomadi degli viaggiatori incessanti o lo stesso Kusai Hiroshige no 36 vedute del monte Fuji questo girava attorno a sto monte trovava tutte le vedute che erano io quando le vedevo pensavo che fossero delle invenzioni dicevo guarda come stilizzano la natura poi quando sono andato nella natura giapponese ero costantemente a bocca aperta perché la natura è così loro l'avevano resa solo grafica ma è a delle forme che sembrano già dei disegni e sono stupefacenti proprio per la la magnificenza ecco il grado di sorpresa che riescono a dare all'essere umano è impressionante questa cosa è chiaramente una cosa che poi ritorna io già l'ho disegnato Bascio a cavallo per esempio e lo voglio rifare ancora e ancora e ancora perché nei diari lui racconta di questi pellegrinaggi che fece e sono dei pellegrinaggi nella natura alla scoperta anche così di cose minime minime però molto profonde molto umane grazie a tutti Grazie a tutti